Ciao a tutti, Dreamlike Moon vi da il benvenuto a questo nuovo video tutorial, nuovo, penso che sia l'ultimo della modalità costruisci, infatti vedremo il completamento della nostra casa vedendo l'ultimo strumento che ci mancava da vedere approfonditamente, cioè le piscine e le fontane. Praticamente la nostra casa è terminata, tranne qua che ho tralasciato un attimo la decorazione della nostra serra barra loft e quindi adesso voglio concentrarmi sulla creazione di una piscina e di alcune fontane, comunque vediamo cosa mettere in questa casa perché sì, vale la pena di decorarla ma poi penso di fermarmi qua perché in realtà cioè decorare l'esterno è molto più facile secondo me che decorare l'interno, il che non è sempre vero, però ci si può mettere più fantasia in realtà che all'interno perché l'interno deve avere gli spazi in un certo modo con certi oggetti nello specifico e messi in una certa maniera, all'esterno si può fare un po' quello che vuole in generale, per cui io direi che questo sarà l'ultimo tutorial di questa serie, poi inizieranno altri tutorial per cui continuate a seguirmi e quindi andiamo adesso a utilizzare e vedere le varie feature del strumento, o meglio degli strumenti piscine e fontane. Allora per le piscine avete gli strumenti che avete anche per i muri, per cui la creazione di una piscina che può essere un quadrato, per cui cliccate e lasciate dove volete e create la vostra piscina, oppure piscina personalizzata come abbiamo visto nel nostro video in cui abbiamo costruito la stanza sotterranea e poi andiamo a chiudere, per cui questo pezzo si aggiunge al resto della piscina. Potete anche cancellare, per cui se adesso volessi creare, che ne so, un buco e mezzo, un isolotto e mezzo, no, questo, posso farlo, per cui potete creare anche una piscina grande con un bell'isolotto e mezzo e poi metterci, che ne so, un asdrai o qualsiasi cosa, insomma, però vabbè, io intanto lascerei così, una piscina normalissima. Altrimenti avete già gli strumenti di piscina triangolare che potete poi allargare e sistemare come volete, oppure aggiungerlo alla vostra piscina, tipo io voglio un angolo in una maniera ben precisa, chiaramente potete sempre ruotare i pezzi con il tasto virgola e punto, tipo io voglio, che ne so, mettere questo pezzo qua, lo metto lì, ne metto un altro perché ne voglio un altro, lo metto, ops, lì e fate la piscina come volete, c'è anche quadrata diagonale, vabbè, piscina quadrata, mettete già un cubo e poi lo allargate come volete, questo direi che lo uniamo perché fa un po' schifo, e poi avete anche piscina quadrata diagonale, per cui andate a farla in diagonale, chiaramente anche unendola a un altro pezzo di piscina che già avete, e ottagonale, e questo è molto carino per fare, che ne so, dei, non so, come delle, delle vasche idromassaggio false se non avete il pack di un giorno alla spa, ecco, adesso cerchiamo di darle una forma un po' più umana a questa piscina, molto bene, se vabbè qua non ha molto senso però, va bene, ce la teniamo così, poi avete lo strumento finitura per piscina, che a seconda dei pack che avete potete aggiungere, o se no c'è la, la piscina, cioè la finitura normale che va a sostituirsi a quella bianca di default. A me piace tanto quella azzurra, per esempio, mi dà più l'idea di, non so, di ferie, non ne ho idea. Poi avete gli stili dell'acqua, se avete il gioco base avete solo l'acqua di piscina clorurata ordinaria, cioè quella di default, altrimenti avete questo, che sembra, non so, provenire da fonti termali dell'inferno, ecco, o a seconda dei pack che avete potete cambiare il colore dell'acqua, come volete. A me piace tantissimo questa, che è tutta bella, brillante. Chiaramente adesso non si vede perché il gioco non può essere messo in play, perché siamo noi nella modalità costruisci. Però ecco, ci sono un po' di stili interessanti, intanto lasciamo questa. Ultimo, ma non meno importante, anzi la parte più divertente, gli strumenti, scusate, gli oggetti della piscina. Per cui abbiamo le scalette, metto sempre quelle di default per ovvie ragioni. Abbiamo le luci, che possiamo mettere sulle pareti della nostra piscina, così i sim possono nuotare anche di notte. Track e track. Poi abbiamo le luci per il fondale, per cui cercate bene che li trovate. Scusate la voce. Le luci per il fondale. E poi, vabbè, a seconda dei pack che avete, avete cose aggiuntive, per cui grate. Tipo l'otto illuminato è bellissimo, secondo me. E... Decalcomania. Va bene. Non è abbastanza grande la nostra piscina. Vediamo? No, non riusciremo mai a metterlo. Vabbè, avete anche questo. Avete un sacco di strumenti a disposizione, anche molto carini. Questo per quanto riguarda la piscina. Per quanto riguarda le fontane, abbiamo più o meno gli stessi strumenti, però funzionano in maniera un filo diversa. Perché, allora, noi creiamo una fontana e, come potete vedere, è molto più bassa rispetto a una piscina. Per cui è la stessa cosa, come strumenti, però costruite un tipo di struttura diversa, che chiaramente non può essere profonda come una piscina. Ah, una cosa che stavo dimenticando delle piscine. Potete anche modificare, esattamente come per le pareti, l'altezza delle pareti della piscina. Per cui, se la volete molto più profonda, potete averla molto più profonda. Ma questo va a influire anche sulla altezza delle pareti dell'eventuale semi interrato. Per cui tenete a mente questa cosa. Io per un periodo ho adorato costruire tipo stanze sotterranee che poi andavano a collegarsi con la piscina. Anzi, facciamolo subito, perché è una cosa molto carina da vedere. Ehm... No. Facciamo così che facciamo prima. Eh, sì. Ci andavo proprio a mettere le pareti, a farle coincidere con quelle della piscina. e poi mettevo delle vetrate. È una cosa molto carina da fare, dà un sacco di luce anche all'eventuale semi interrato che avete. È proprio uno dei sistemi per avere luce in maniera naturale. Certo, magari non è bellissimo per chi sta in piscina in quel momento, ma vabbè, ehm, dettagli. Trascurabilissimi, tra l'altro. Ah, però adesso sono... Chiaramente... Ecco, lo volevo così. Qua la scala mi si è cancellata, perché... Ho modificato l'altezza. Ma vabbè. Poi le rimetteremo. Andiamo sulle finestre basse e ci mettiamo queste. Ecco, questa è una cosa che adoro fare. Come vedete qua, si è già riempito di luce. Per cui potete avere intere stanze semi interrate e farle coincidere con la piscina. Chiaramente la stessa cosa si può fare, ma non ve la faccio vedere qua, perché sennò ci mettiamo 30 anni. Si può fare anche, che ne so, al secondo piano. Costruisco una piscina, che sia interna o esterna. E sotto, chiaramente, poi ci saranno delle pareti, che sono le pareti della piscina. Tipo, mettiamo caso che sopra lo studio per cui questa porzione qua di casa diventi una piscina. Io sotto potrei avere questa parete con le finestre che danno direttamente sulla piscina e che aggiungono un sacco di luce alla casa. Per cui tutti i trucchetti e idee che vi invito magari a provare, a sperimentare per le case moderne va benissimo. Anche per i labirinti, insomma. Comunque, torniamo al nostro strumento fontane. Per cui serve per avere dell'acqua, però meno profonda. stessi identici strumenti che abbiamo per le piscine. Né più, né meno. Uguali, uguali, uguali. Ecco, facciamo per esempio una cosa di questo tipo. Così abbiamo due fontane diverse. Anche qua abbiamo le finiture, per cui, anzi, abbiamo più tipi di finiture per le fontane che per le piscine, dire il vero. Mettiamo queste, proprio di default. Se volete, se no potete anche farne a meno. E poi emettitori d'acqua. E qua potete creare dei bellissimi effetti con l'acqua. Perché anche se in modalità costruisci non si vede, nel gameplay, nella modalità, insomma, di vita, diciamo, fanno degli effetti veramente stupendi. Per cui, sperimentate. Questi, per esempio, sono emettitori di acqua con salto medio. Per cui, tipo, fanno un pluf, pluf con l'acqua. Ci sono anche quelli, che ne so, di questo tipo. Che, vabbè, questo è enorme. Mettiamoci, ecco questo. Già abbiamo una specie di preview di quello che fa. Questo è anche grande, perché ho creato delle fontane piccole. Ecco, tipo. Però, se avete dei lotti grandi, dei parchi, cose di questo tipo, potete veramente sbizzarrirvi, davvero. E poi abbiamo le decorazioni per fontane, che alla fine sono molto simili a quelle per piscine, solo che abbiamo qualcosina in più come strumento. Beh, questa è già una fontana di suo. Non serve metterla all'interno di una fontana. Ma possiamo anche. Insomma, quello che volete, alla fine. Cioè, è molto... Vabbè, questo l'abbiamo visto sotto. Dove abbiamo messo questo emettitore di acqua in quella che era la vasca, che adesso, per qualche strano motivo, non c'è più. Vedete? Avendo cambiato la dimensione delle pareti qua sotto, mi ha cancellato un po' di cose che non dovrebbero stare lì, in effetti. Per cui, se fate modifiche, controllate di non aver perso nulla. Lo rimettiamo subito. Ecco fatto. Sì, insomma, potete veramente sbizzarrirvi, sia con le piscine, sia con le fontane, perché avete possibilità che sono davvero vicino all'infinito. Anche questo, vabbè, è una fontana già di per sé, ma può essere inserito all'interno di una fontana. Per dare un po' più di realismo, diciamo, alla nostra fontana. Per cui, io direi che con questo è tutto. Non sto qua a farvi vedere i recinti, altrimenti, vabbè, possiamo fare una piccola panoramica, tipo, se voi volete recintare la vostra casa, ricordatevi solo che non potete utilizzare l'ultimo quadratino, quello che dà sul bordo della strada. Dovete per forza trovarvi un quadratino in dentro. Poi, io adoravo creare giardini di questo tipo, tipo con le arcate. Vabbè, questo ve lo faccio vedere solo per non lasciare il tutorial, diciamo, incompleto, sotto certi punti di vista. E una cosa che adoravo era fare giardini di questo tipo, con un sacco di rose, poi qua, poi altri archi che passavano in un'altra sezione del giardino, sempre con le siepi e tutto il resto. Vabbè, potete mettere cose anche più classiche, per cui i recinti e i cancelli un po' più classici, ovviamente. Bene, io direi che, vabbè, qua, sì, possiamo mettere un po' di cose, a caso, giusto per decorare. Poi, in realtà, la parte esterna, come dicevo, veramente sta a voi. Né più né meno. Per cui, io vi ringrazio per aver seguito questo tutorial, questa lunga serie di tutorial sulla modalità costruisci, compre e costruisci, anzi. Spero che la casetta che abbiamo costruito insieme vi piaccia. Ora, vabbè, quella lascio non terminata. Però, se volete che io la metta in galleria, ditemi. Così potete modificarla come preferite, ristrutturarla, anche solo vedervela, per ripassare i vari passaggi. E spero veramente che questa serie di tutorial vi sia stata utile, perché, effettivamente, ammetto che ci sono un sacco di strumenti nella modalità compra e costruisci, che a volte sfuggono, semplicemente. sfuggono la comprensione umana. Più che altro bisogna passarci un sacco di ore prima di scoprirli tutti, per cui, se sono le vostre prime a casa, è normale sentirsi frustrati, non sapere cosa fare, non sapere dove guardare, eccetera, eccetera. Per cui, se questi video vi sono stati in qualche modo utili, mettete mi piace, iscrivetevi, se siete nuovi per seguire i prossimi tutorial, che arriveranno molto presto. E, vabbè, commentate, che a me fa sempre molto piacere, se volete chiedere qualcosa, commentare, vabbè, dire la vostra, su qualsiasi cosa, fatelo pure. E andate nell'info box del video, dove trovate tutti i link a tutte le playlist, quindi a tutte le serie che sto facendo, e ho fatto con The Sims, ma non solo. Il link al blog dedicato The Sims, il link alla pagina Facebook, link alle di link, no, i di Origin, per cui se volete cercarmi su Origin, e stringere l'amicizia, fate pure, che a me fa molto piacere. E vi ricordo che trovate anche il link ai canali dei miei amici YouTubers, che vi invito a seguire, perché sono molto molto bravi, per cui andate a controllare anche i loro canali. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per aver seguito questa serie, insieme a me, per aver commentato, per tutti i commenti che mi avete lasciato, le domande, eccetera, eccetera, grazie mille davvero a tutti per la vostra partecipazione, grazie di nuovo, ci vediamo alla prossima, e vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti!